Al Bricci che in l'avvento di conto economiale, oltre all'agente immobiliare, alla proprietaria, all'embitore eccetera eccetera, coinvolge principalmente l'amministratore che lo deve dirigere secondo norma e può essere utile anche ai valutatori immobiliari per andare ad apprezzare caratteristiche soprattutto beni comuni e la qualità statunitettivo eccetera per le condizioni comuni, giusto? Se lo facciamo insieme, permesso che erano agenti immobiliari che hai per la concorrenza, ormai il patentino se vedete lo sospendono, oggi valutano bene, se io vado a dire un condomino, ma soprattutto all'acquirete, questa casa vale 100.000 euro, questo cumpere a casa, spende 100.000 euro, all'assemblea successiva arriva l'amministratore che gli dice, hai X soldi da spendere per le parti comuni, nella valutazione di un bene, le parti comuni non è proprietario di una quota, l'esimale di quel bene, per cui io agente immobiliare che ho fatto una valutazione, ho commesso un piccolo errore, senza accusare nessuno, cioè ho dato valore 100 a quella parte condominiale, ma che in realtà vale 0 e va oltretutto a penalizzare il valore principale del bene, perché se ho un'autorimessa all'interno di un corsello senza certificato di prevenzione incendi, lì non si può parcheggiare, un bravo condomino non se lo fa, io da un amministratore lì non parcheggo, un bravo condomino dice, non ho il certificato di prevenzione incendi, l'interrato che immediatamente propisce quella parte, io non ci parcheggio, ma è peggio ancora se io sono in un fabbricato 24 metri, al colmo, al tetto dell'ultimo balcone, non è più abitabile, l'integro vanno a scala, vado a vendere una casa in cui il padrone non può incidere a casa sua perché il vanno a scala non ha il certificato di prevenzione incendi, cioè la normativa è molto restrittiva, non è che solo le autorimesse, autorimesse, centrale termica, e fabbricati in cui l'ultimo balcone è 24 metri in su, mi ne ecco quindi se ce ne siano pochi, non mi sono guardato fabbricati così, ma pensate in una realtà in cui erano fabbricati da 40 metri, quei fabbricati hanno il vanno a scala e succedente di valutazione CP, e se non ce l'hanno per quando scala non si utilizza, e l'amministratore è proprio di una valuta utilizzata, però quello cambia, questo è un altro problema, ma tu hai venduto un bene che non è conforme. quindi mi pare di capire uno strumento che poi è al servizio anche dei valutatori, per i valutatori ovviamente ci sono, ci siamo anche noi tecnici, quindi se non so, però nel senso che siccome, nel senso positivo, nel senso che è una filiera, è tutta la filiera del compramente immobiliare, del passaggio di proprietà che devi capire quali sono gli strumenti e come poterli utilizzare. Mi chiedevo una parola a Sergio Colombo, signorale Errato. Signorale Errato, mi chiesto una grandina pratica. Noi come agenti, nella maggior parte dei casi, chiediamo al proprietario di chiedere all'amministratore e all'alberatore, e come diceva lei prima, poi nella realtà viene che l'amministratore ha la data del tutto pagato. Vero che preventivamente noi abbiamo consegnato all'acquirente, al potenziale acquirente, il rendiconto, l'ultimo normale e l'ultimo rendiconto, per cui determinate notizie sono all'interno di quello dell'altro. Poi ecco, non capisco, questa è una legge, una disposizione di legge, non capisco la diluttanza da parte dell'amministratore ad ottemperare a questo. La mia domanda, magari da Pierino però, è lì che noi ci scontriamo. E' vero che poi io, poi Mario è l'amministratore, ho scritto questo e io sono appunto. Premetto, qui c'è l'amministratore, io sono l'amministratore. Qui non stiamo parlando male di amministratore. No, se c'è qualche amministratore in sala, assolutamente c'è. Stavo proprio a questo momento per cercare di capire quali sono le fotografie. Non c'è che te sono male, io non c'è mai che sono male. Premesso che quello che noi vi stiamo rappresentando, se voi riuscite a utilizzare bene le nostre parole, e utilizzarle bene vuol dire inserire in un rendiconto, in un preliminare, e inserire in preliminare le giuste parole che poi l'avvocato magari vi da, vuol dire che voi vi siete tolto tutte queste responsabilità. Ok? Perché se io ti chiedo, amministratore, da anche questi documenti, in questa forma, di quello che tu ricevi è l'obbligo di valutare bene. Perché l'agente immobiliare non viene chiesto di fare l'amministratore. Partiamo da questa parte qui, per cui vedetelo in questo modo. Dovete imparare a utilizzare correttamente la nave economia del rendiconto. Per utilizzarlo bene bisogna conoscerlo, è quello che facciamo noi oggi, cercare di dargli questa parte. La risultanza degli amministratori, guardi, io sono un amministratore, no? Non è che abbastanza come ci aveva conosciuto. Il problema è i costi. Ridicere oggi un anagrafo condominiale per uno studio, guardi, vuol dire che uno ci si deve avvalere un tecnico, perché tenete conto l'applicazione del decreto legge 81 per il mio studio, lo devo fare un tecnico, perché la valutazione dei rischi all'interno di un fabbricato, un amministratore non può anche avere competenza, ma non ha il team, perché io devo prendere il geometra d'ulisse, lo forno giustamente su quello che serve da compilare, da quello che lo deve fare lui. Per cui è anche un'opportunità di lavoro. Ma è un costo che l'amministratore non può trasferire al condominio, perché nel suo incarico questa parte è competenza esclusiva sua. E' la legge 4 che mi dice, tu sei un professionista, e da professionista tu e venti dice, l'amministratore redige il registro anagrafo, non si avvale di. Per cui ho l'obbligo di farlo io. Poi, anche qui, era auspicabile che gli amministratori leggessero argomenti e iniziassero a dire, ecco, i soldi che prendo oggi non ci sto dentro. Non hanno fatto, anzi stanno giocando a ribasso, perché si occupano i condomini ecologici e non si è capito il perché, ma il ragionamento di fondo, dove l'entra un amministratore che ha messo a carico tre volte il lavoro che dovrò fare precedentemente. Il vecchio rendiconto, per chi di voi di contavate, no? Era conti. Ho detto, non avevi una specifica di come dovrebbe essere di cosa dovrebbe contenere, che cos'era. Oggi leggiamo il 1130 bis, il 1130 bis lo leggiamo insieme, no? Che così lo leggiamo bene. Il rendiconto condominiale contiene le voci letate di uscita e fino a qui ci siamo tutti, no? Ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio. Il legislatore ti dice, caro mio amministratore, tu devi dare la fotografia patrimoniale a tutti i tuoi condomini, ma questa situazione patrimoniale fuoriesce dall'ambito condominiale. Niente conto che gli istituti di credito oggi chiedono a noi revisori un aiuto per valutare un condominio in fase di prestito. Il dottor Giordano sta collaborando con più di un istituto perché ormai le banche vivono. Se il rendiconto ha fatto bene, in 1130 dice, situazione patrimoniale del condominio. Per cui vuol dire che il legislatore riconosceva una patrimonialità singola al fabbricato e ti finanzi. Poi qui ci dice anche nei fondi disponibili e della riserve, ma questo bene o male è un dato che se si è prestato, ma dice che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Questa frase agli amministratori è un grosso problema, perché l'immediata verifica vuol dire che io la devo fornire all'utente medio. Se voi leggete il codice civile cosa dice dell'utente medio ci offendono, perché considerano la persona tecnica, un bravo ignorante che guarda i conti. Per cui io che faccio l'amministratore devo mandare i conti e i miei amministrati talmente chiari e facili che devono essere comprensivi per una tecnica. Tant'è vero che rendo i conti fatti bene, siamo passati da 30 fogli a 100. Un vero rendo i conti oggi è qualcosa di veramente consistente non in numero di fogli, ma in quantità di dati consignati. Poi si dice di un registro di contabilità, vuol dire che diamo ai condomini uno strumento per controllare attivamente l'attività dell'amministratore. Il registro di contabilità dell'amministratore dell'oreggi è collegato al 1129 che ti dice che qualunque operazione condominiale deve transitare dal punto corrente a condominiale. Il registro di contabilità cosa vuol dire? Che l'amministratore non potendo più muovere i contanti, neanche per comprare la raccomandata per San Paolo, per cui registro di contabilità contro l'immediato dell'amministratore, obbligo nel 21. Poi anche qui, vedete qui che dice di un epilogo finanziario e una nota sintetica e esplicativa della gestione con indicazione anche dei rapporti in corso delle questioni ai pendenti. Quello che vi ho detto io fino adesso lo troviamo ma tutto qui. Io sono spiegato come un amministratore ha l'obbligo di farlo. Mi piacerebbe un giorno che anche qui a Lecco dei Celeste devono i conti fatti bene. Diventa molto più facile per il condomino vivere la vita condominiale, ma per un agente immobiliare è qualcosa di veramente innovativo. Devo valutare un bene, vado a vendere, che sovente voi mi dicono chi abita qui, ci sono gli extracomunitari, non ci sono, sono tutti italiani, se io chiedo registro anche l'amministratore ha l'obbligo di darvi tutti i dati comprensivo anche dei conduttori, con codice fiscale. Mentre conto che un'innovazione di legge è veramente avvicinata. Se poi leggiamo la parte successiva che ti deve dare tutte le condizioni di sicurezza delle parti comuni, ci leggiamo che avvito la fotografia completa del fabbricato che andate a comprare. L'amministratore come fanno a darvi tutte queste cose nuove con il compenso del 2012?